buongiorno e benvenuti nella mia cucina ciao con noi rachel oggi noi siamo felicissime di riprendere insieme vi ricordate la rubrica quattro mani in pasta e quale qua sono le nostre con rachel avevamo fatto l'ultima puntata di quattro mani in pasta è stata la terza della concia di zucchine la concia di zucchine è stata un vero successo è stata molto seguita e niente in quella puntata lì c'eravamo riproposte di fare i famosi carciofi alla giudilla e questa è arrivata il momento con rachel ci siamo sentiti non potevamo fare a meno di anche se con la mascherina infatti questa è stata la cosa che ci siamo chieste che facciamo ci perdiamo l'occasione del momento dei carciofi che poi devono essere i carciofi romaneschi questi sono velocissimi anche come uscita quindi mandava fatta per forza ha detto va bene dai facciamo e questo quattro mani in pasta ricominciamo e ce lo facciamo mascherate mascherate sapevo uscire al carnevale vi assicuro che i carciofi alla romana ce li può insegnare perfettamente rachel scusatemi carciofi alla giudia ce l'insegna perfettamente rachel come la raga è brava è brava è bravissima a farvi così lo imparo anch'io insieme a voi e cominciamo dalla capatura iniziamo dalla capatura e rachel che faccio abbassa il video così lo vedremo meglio allora vi abbassa il video così vedremo la lavorazione va bene allora iniziamo quindi il gambo rimane giusto si 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 il gambo deve rimanere anzi volendo anche un pochino di più però così va bene ok devo mettere un po d'acqua nel no no non c'è bisogno perché li facciamo subito quindi non c'è bisogno questo di campo te lo devo tagliarlo no non serve ok ok facendo vedere com'è bello come l'hai praticamente tagliato bastano o eccolo qui dovevo mettere un po di sale e pepe condirlo un po di limone ha condito direttamente si si va per farlo scurire e l'olio va messo poi metto l'olio dentro eccoci allora vi abbiamo portato qui a piano cottura vediamo se l'olio come dice rachel se ha raggiunto la temperatura se fa le bollicine intorno allo spuzzicatente ok raga ci siamo sì vedi la sotto fa anche perché all'inizio deve essere più basso e dopo un po più alto spiega tutto tu raga e poi lo immergiamo proprio poi dopo lo rigiriamo molto a meno calcoliamo 5 minuti 5 minuti di cottura lì circa ok come ce ne accorgiamo raga proprio 5 minuti ah ok mi chiamo una pre-crittura si fa un pezzo a falla loica o se ne possiamo dare anche un contenitore così vuole la pre-crittura così secondo me o se vuole la pre-crittura poi se vuoi servire la sera vuoi servire al forno ah vanno comunque riscaldati un po' giro ok eccoci qua sono passati 5 minuti ragazzi 5 minuti abbondanti vedete il piano è abbastanza corto ora puoi anche spegnere nel frattempo ok perché dobbiamo dare una forma al nostro sposto di qua spieghiamo Radel ok dobbiamo dare una forma al nostro persopo vediamo però raga con le mani viene meglio in realtà mhm questa stessa in giù dopo dopo prima va aperto si va aperto con delicadezza si ma guarda guarda che fiore no 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 meraviglioso ah ecco quindi lo apriamo va aperto proprio guarda che tenerezza di carciofo è tenerissimo non è nemmeno peloso è perfetto ah ok ah e poi lo schiacci schiacci un pochino vedi che faccia una sembianza vero e poi rialza rialzo vai e lo rimettiamo dentro e lo rimettiamo dentro allora vai vai ah e questa volta proprio così un po' lo riteniamo un'altra volta basta un pochino ecco perché il gambo lungo perché con lì il gambo va tenuto vedi sì meraviglioso 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 però mettiamolo un pochino ok ok lo metto abbastanza alto senti qua eccoci 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 e eccoci 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 che meraviglia, perché più di così poi rischiamo che si spappolino troppo le foglie, dammi un altro altro, prendo io una stracata, un piatto piano, anche qui se no te lo sporco tutto, aspetta che veniamo di qua, così la controllano, eccoci qua, ti seguiamo, guardate che bella forma, ma che bello che è, mamma mi aspetta raga, guarda, avvicinaglielo pure, tanto guardate che meraviglia, guardate che bello, uno spettacolo, che sarà, immagino, anche buono, è sicuro, quindi tu sale e pepe ce l'hai messi prima, non dobbiamo aggiungere, non dovrebbe servire, io ho messo sale e pepe, ok, è bellissimo, ma questo adesso deve rimanere così, Rachel, certo, poi li metti tutti insieme, su un piano, cioè nel senso lo posso mettere subito nel piatto da portata o deve colare, si, intanto già colato, guardate che cos'è, si lo vuole far vedere, lo giriamo da qua, eh, è meraviglioso, Rachel è profumatissimo, si, si, sono curiosa, è veramente bello, eccoci qui, hai fatto un video velocissimo, questo è il primo carciofo, poi li faremo qualcun altro, si, eccolo qua, è bellissimo, il nostro bellissimo carciofo, mamma mia, quindi è croccante fuori, ma con il cuore proprio morbido, morbido, questi sono ciccioltoni di carciofi proprio, poi se volete, questi qua potete anche congelarli, li congelate, li mettete sul gelatore, poi li lasciate scongelare, li mettete nel forno già bello alto, oh, che bella cosa, quindi ce li possiamo conservare, li puoi avvantaggiare, si, si, li avvantaggiate se c'è di una cena, ma più che altro, visto che la durata del periodo è breve, il periodo è breve, quindi li congeliamo così, una volta fatti, ne mettiamo in un gelatore, quando in stagione te ne metti qualcuno sul gelatore, quindi li tiriamo fuori e praticamente si fanno scongelare, si scongelano e poi si mettono nel forno già bollente, oh meraviglioso, che sto per scaldarli, per farli congeli, allora assieme a noi dovete prepararne tanti, così ce li abbiamo per più stagioni, bravi, bravi, ciao, Raquel, grazie, grazie di questo bellissimo video e adesso noi vi lasciamo ringraziandovi soprattutto di averci seguite, anche perché adesso andiamo a fare gli altri, lasciamo anche voi, andate a farli, grazie Raquel, quattro mani in pasta e ricominciate con una ricetta meravigliosa, i nostri carciofi alla giudia, grazie e grazie a voi, buona giornata, ciao!